Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video! Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo anche che è uscito al mio shop. Vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Oggi sono qui per portarvi un caso che qualcuno di voi mi ha chiesto non troppo tempo fa. Oggi parliamo di un inganno d'amore, di una truffa. Questa triste storia si svolge a Castellamonte, una piccola località in provincia di Torino dove Gloria Rosbock, la protagonista di questo caso, vive con i suoi genitori. Gloria nasce il 28 marzo del 1966. I primi mesi di vita sono per lei difficoltosi, non cresce come dovrebbe. E questi problemi, seppur in forma più lieve, Gloria li trascina con sé fino ai suoi primi anni di vita. Ciò ha sicuramente influito sulla formazione del suo carattere parecchio riservato. Gloria è una bambina molto chiusa, ama stare a casa sua. Non ama uscire e non fa grossi cambiamenti dall'infanzia all'adolescenza e dall'adolescenza all'età adulta. Rimane chiusa, molto timida, ama stare per i cavoli suoi, per conto suo. È tranquilla, pacata e, inoltre, è molto affezionata alla sua famiglia. Suo padre di nome fa Ettore, mentre sua madre si chiama Marisa. Crescendo Gloria diventa un'abitudinaria. Rimane sempre a casa dei suoi genitori, non ha hobby, non ha relazioni sentimentali. E questa è una grande mancanza per Gloria, che di conseguenza non riesce a sviluppare nessuna relazione amorosa. In questo ambito specifico, dunque, Gloria è un po' ingenua, a causa della mancanza di una qualsivoglia esperienza. In casa, Gloria viene trattata da sempre come la piccolina. Di conseguenza, Gloria ha un lato caratteriale che è molto fanciullesco. Arrivata a 49 anni, Gloria Rosbock non ha avuto nessun rapporto, mai, con nessun uomo. Però, nonostante questo lato caratteriale un po' fanciullesco e un po' ingenuo, Gloria sa bene cosa vuole fare nel suo futuro. Studia lingua all'Università di Torino, diventa un'insegnante di francese e rimane nella piccola realtà di Castellamonte. Insegna lì francese, in quel paese che conta 10.000 anime. E, come già vi ho detto, è una donna molto ordinaria. Ha giusto un paio di amiche con cui si sente tutte le sere. Una si chiama Anna, l'altra si chiama Roberta. Inoltre, Gloria è davvero buona e generosa. Aiuta dei bambini con disabilità ed è anche molto brava, paziente e sensibile. Gloria vive con i suoi genitori e non ha spese da compiere. Anche perché conduce una vita tranquilla in cui al massimo va messa la domenica mattina, Gloria non ha necessità di spendere tutti i soldi che guadagna, anzi tutt'altro. La maggior parte di essi, infatti, li ha messi da parte. Sono chiaramente in banca, nel suo conto corrente. In realtà, però, Gloria, con la sua vita tutta uguale, cadenzata dagli stessi ritmi regolari, un maschio a casa sua lo ha fatto entrare. Si chiama Gabriele. Questo ragazzo chiaramente non è il fidanzato di Gloria. L'aveva conosciuto alle medie perché era la sua professoressa di francese. Questo ragazzo non è assolutamente il compagno di Gloria, anzi, l'aveva conosciuto quando era alle medie perché era la sua professoressa di francese. Crescendo, Gabriele si rivela un ragazzo problematico, indisciplinato. E più volte Gloria in un certo senso lo copre, facendogli evitare note sul registro e provvedimenti disciplinari. Ma perché Gloria si comporta così con questo ragazzino? Ebbene, perché Gloria, Gabriele, l'ha preso sotto la sua ala protettrice. È stata fin da subito attratta e non in senso intimo da Gabriele. Gabriele De Filippi è il secondo protagonista di questo caso. E onestamente sono rimasta alquanto perplessa quando sono andata ad approfondire il carattere di questa persona. Che definire camaleontica è poco. Gabriele vive a poca distanza da casa di Gloria e da 22 anni. Questo ragazzo viene descritto come un genio, come un manipolatore nato. Ma a me non è parso proprio così. A mio parere hanno esaltato un po' troppo la figura di Gabriele. Che sì, sicuramente ha qualche disturbo. Inoltre in più fonti ho letto che Gabriele abbia una disforia di genere. E infatti il tratto più particolare di Gabriele è la sua capacità di trasformarsi. Sente la necessità di piacere a tutti. Perché è un gran narcisista e questi sono tutti i volti di Gabriele. Stiamo parlando della stessa persona. Sempre. In ogni foto. La cosa a mio parere preoccupante è che quando Gabriele cambia aspetto, cambia anche la sua personalità. Non è mai la stessa persona. Ognuna delle sue personalità ha un nome e un profilo Facebook apposito. La sua sessualità chiaramente è ambigua. Gabriele gioca molto su questo aspetto. Anche perché si rende conto che attrae gli altri in qualche modo. E Gabriele vuole attrarre il prossimo. Vuole stare al centro dell'attenzione. Vuole essere l'anima della festa. C'è da dire che questo ragazzo non ha una situazione familiare erosea. Ha un fratellino più piccolo di nome Claudio. Vive da sempre con sua madre Caterina Battista. Caterina ha avuto Claudio e Gabriele da due uomini diversi. Uomini che in entrambi i casi sono spariti non solo dalla vita di Caterina. Ma anche dalla vita di Claudio e Gabriele. La donna fa l'osso presso l'aslo di Ivrea. E chiaramente è l'unica che lavora in famiglia. Quindi le uniche entrate monetarie provengono dal suo lavoro. Lei, Gabriele e Claudio vivono in una casetta alquanto angusta. È vecchia, piccola. E questo tipo di vita a Gabriele sta strettissima. Infatti Gabriele ama il lusso. È un ragazzo che sogna la bella vita. Quella che ahimè non ha e non può permettersi. Studiando un minimo la personalità di Gabriele. O almeno informandomi. Mi è parso di vedere un piccolo Pietro Maso. Chiaramente solo sotto alcuni aspetti. Gabriele vuole la bella vita. Vuole i soldi. E si sente stretto in quel paesino. Che non riesce a dargli nessuno stimolo. A me ricorda molto Pietro Maso. Ma in questo caso le storie chiaramente si differenziano di parecchio. In quanto Caterina è sempre a lavoro. Ho letto anche alcune fonti le quali asseriscono. Che Caterina talvolta esce anche con degli uomini. E ovviamente a prendersi cura di Claudio c'è Gabriele. Emerge peraltro che Gabriele con sua madre ha davvero un pessimo rapporto. È vero il loro è un rapporto conflittuale. Ma il ragazzo è manesco con lei. La insulta in continuazione. Le mette le mani addosso. Alza le mani anche quando Caterina si limita ad avere delle opinioni diverse dalle sue. Inoltre spesso Gabriele chiama sua madre brutta p***nana. Caterina a questo punto si rende conto che suo figlio ha qualche problemino. Insomma soffre di problemi comportamentali. E ha anche dei disagi psicologici. Di conseguenza lo manda in cura in neuropsichiatria. E in psicoterapia infantile all'asl di Ivrea. Gabriele in questo momento ha circa 16 anni. E dai documenti emerge in effetti che Gabriele fin da piccolo ha una personalità sicuramente disturbata. Specialmente perché riceve in continuazione bullismo e discriminazioni per il suo modo di essere. Insomma Gabriele più o meno in terza media inizia ad esprimere la sua personalità. Le sue personalità. Se sente il bisogno di essere una bella ragazza con i capelli biondi non c'è problema. Cambia. E questo a mio parere lo rende più non binario. Gabriele quindi non si fa grossi problemi. O meglio accetta se stesso con tutte le sue personalità e tutte le sue sfaccettature. Sono gli altri che non lo accettano. È in questo modo che Gabriele sviluppa una personalità narcisista. Ecco perché sente la necessità perenne di stare al centro dell'attenzione. Gabriele ha bisogno di rassicurazioni. Gli altri lo devono tutti vedere come un ragazzo particolare, strano, ambiguo, misterioso. E in effetti crescendo Gabriele si rende conto che ama particolarmente sedurre persone più grandi di lui. E che soprattutto abbiano dei soldi da spendere. Perché Gabriele di soldi non ne ha mai avuti. Ma gli piacciono parecchio. Intanto però il ragazzo sogna in grande e sul suo diario scrive. Sono stato impegnato a studiare la mente umana. Oppure a ridurmi peggio di uno straccio bagnato. In ogni caso Castellamonte comincia a starmi stretta. La mia vita mi sta stretta in un modo indecente. Mi sembra realmente di vivere in un continente alieno. Non c'è impronta di cane che io apprezzi. Non c'è strada che mi piaccia. Persona che io voglia salutare. Non c'è un cazzo di niente qui. Oltre a ciò Gabriele scrive anche delle poesie. E in questo caso ve ne leggerò una che si intitola La Solitudine. Mi osservo dinnanzi a tanto disprezzo. Ben mimetizzato nella sepe oscura della mia mente. Vedo un contorno evidenziato di nero. Come l'uomo della domenica pomeriggio. Come quel fumo che respiro ogni momento. Mi sento vecchio se vado al mio viso. Spesso in quello sfondo fra tremila palazzi. Vedo la mia borsetta e il mio rossetto. Dimenticate di invecchiare in qualche soffitta. Tutto ciò che mi appartiene è stranamente invecchiato. Le strade di Gabriele e Gloria come già vi ho detto si incrociano. In modo inevitabile fin da quando Gabriele è piccolino. Perché ha problemi comportamentali a scuola. E quindi va a fare ripetizioni dalla professoressa Rosbock. È così che si insimula nella sua quotidianità. Lo fa in modo silenzioso. Entra in quella villetta di via Barengo. Trascorrendoli più o meno tutti i pomeriggi per fare ripetizioni. E chiaramente Gabriele crescendo diventa per certi versi un amico di Gloria. Tra di loro infatti si instaura un rapporto parecchio particolare. Mentre Gabriele instaura e costruisce questo rapporto con Gloria. Ascolta anche attentamente cosa le dicono e cosa si dicono i suoi genitori. È palese. Sono soffocanti i genitori di Gloria. La controllano per ogni cosa. Controllano addirittura cosa fa il computer quando è su internet. Passano le medie. E a questo punto Gloria e Gabriele si perdono di vista. Lui chiaramente al tempo è solo un ragazzino. E però nel frattempo arrivano altre donne nella vita di Gabriele. Che è letteralmente un turbine. Passa da donne giovani a donne ben più grandi. Entrano ed escono dalla sua vita come meglio crede. Gabriele ad un certo punto va addirittura in Thailandia. Accompagnato da un suo amante. E continua a lavorare a dei progetti che però non rende palesi. La verità è che Gabriele è un predatore. Sul web infatti riesce a conoscere una donna. Ha 45 anni. È sposata. Fa la cameriera. Ed il suo nome è Efisia. Oggi ovviamente la donna sostiene che tra lei e Gabriele non ci sia stato mai nulla. Ma la verità è che lei si era invaghita di Gabriele. O meglio del suo Gabri. Lui le ripete. Ho un progetto fantastico. Un albergo sulla riviera. Efisia non è ricca. Ma è fragile e quando Gabriele le dice apriamo un albergo sulla riviera, diventa mia socia, cambia vita, prova in effetto ad andare in banca in cerca di un finanziamento. Ossia 50.000 euro per comprare l'hotel. La busta paga di Efisia però è troppo magra per un finanziamento simile. Così Gabriele la scarica. Passano gli anni, arriva il 2014 e Gabriele ha 20 anni ed è a questo punto che rincomincia a frequentare Gloria. Questa volta però Gabriele chiaramente non frequenta Gloria per motivi scolastici. Anzi, le ha anche detto di essersi diplomato col massimo dei voti, cosa non vera. Questa volta però la situazione è diversa. È Gloria che ha bisogno di Gabriele perché vorrebbe imparare ad usare il computer. Nello stesso anno, ossia nel 2014, come se non bastasse, Gloria perde il posto di lavoro. La donna ha fatto sia l'insegnante di francese che l'insegnante di sostegno. E a quanto dice sua madre ha sempre preferito aiutare gli altri piuttosto che avere una cattedra. Di conseguenza se è possibile Gloria sceglie sempre di fare l'insegnante di sostegno. Ecco come Gabriele si insinua nuovamente nella vita di Gloria Rosbach. L'aiuta a inserirsi nelle graduatorie. Arriviamo quindi all'estate del 2014, periodo in cui Gabriele sta sempre da Gloria. A casa sua ci torna solo per mangiare e per dormire. Dovete sapere che Gabriele oltre ad essere molto misterioso è anche poco loquace. Non parla né con sua madre né con i suoi amici, non si confida insomma. Non racconta nulla a nessuno ma con Gloria si apre. Le dice che ha molti traumi alle spalle che non riesce a superare. Suo padre l'ha abbandonato, ahimè ne soffre molto. A scuola ha ricevuto solo e soltanto bullismo e disprezzo. Inoltre Gabriele ha anche subito una forte discriminazione a causa della sua disforia di genere. Gloria quindi si intenerisce immediatamente vedendo quel ragazzo all'apparenza così forte ma così fragile nello stesso tempo. Gabriele nel profondo è segnato da tanti traumi che si sono susseguiti nella sua vita portandola ad avere una personalità molto difficile e complessa. Il legame tra Gloria e Gabriele è molto strutturato proprio perché si conoscono da tanto tempo. Il loro è un legame anche intriso di relazioni familiari perché Gabriele entrando in casa di Gloria conosce anche i suoi genitori. È così che Gabriele inizia a sfogarsi con Gloria. E quest'ultima fa lo stesso. Dice a Gabriele che ha perso il lavoro, che non sa cosa fare, che è in panico. Nonostante viva con i suoi genitori ha sempre lavorato. È così che tra una confidenza e l'altra Gloria dice a Gabriele di avere in banca da parte 187.000 euro. E a Gabriele si rizzano immediatamente le antennine. Fino a questo periodo infatti Gabriele sostiene di avere una fidanzata di nome Laura in Toscana. Dice che stanno vivendo una relazione a distanza. Sarà vero? Non possiamo esserne sicuri ma io ne dubito fortemente. Di una cosa però siamo sicuri. Appena Gabriele scopre la somma in banca che ha Gloria, magicamente diventa single, in un batter d'occhio, con uno schiocco di dita. E in effetti inizia a dimostrare alla sua ex professoressa anche una specie di attrazione più che altro mentale. Dopodiché Gabriele racconta a Gloria di essere entrato in un'importante società finanziaria di Milano, ossia la Business Group. Lui fa il broker, ossia il consulente finanziario. Ci sono grandi prospettive per il futuro. Per essere credibile come consulente finanziario Gabriele scrive un'email a Gloria, ma la manda a nome di Pietro Tullio De Mauro. E chi è ora questo uomo? Beh, è l'amministratore della Business Group. Quell'email chiaramente è falsa. Gabriele non è entrato in nessuna società finanziaria importante di Milano. Il punto è che la mail che manda a nome di Pietro Tullio De Mauro è davvero credibile. Ovviamente questo uomo tramite questa mail elogia Gabriele. Come un giovane capace e competente nella sua materia. Gabriele ovviamente crea una rete di informazione del tutto inventate. Sostenendo che il lavoro di broker si debba svolgere prima a Milano e in un secondo momento in Costa Azzurra. Contemporaneamente Gloria a livello lavorativo ha delle difficoltà non indifferenti. Non riesce a tornare a lavorare a scuola. E quindi ecco che Gabriele le propone di partire con lui per la Costa Azzurra per fargli da segretaria e da traduttrice. Tant'è che Gloria compra un quaderno e inizia a ripassare dei termini commerciali specifici. Gabriele inoltre come già vi ho detto confida a Gloria di essere preso a livello mentale da lei. Il punto è che non possono pensare neanche per sbaglio di frequentarsi alla luce del sole. Andare in Costa Azzurra quindi avrebbe permesso ad entrambi di vivere questa storia con più naturalezza. Se Gabriele e Gloria quindi non possono esprimere con i gesti quello che provano lo fanno tramite email. E in effetti ho trovato alcune email che Gabriele ha scritto a Gloria. Credo sia giusto leggervele così potrete farvi un'idea personale e ben più chiara di quanto in effetti fosse scaltro questo ragazzo. Gabriele scrive a Gloria Ora qua si tratta di una questione molto grossa che vede parecchio impegno da parte mia in primis. In teoria il discorso che ho avviato sarebbe basato su ciò che ci siamo detti a voce alla barcaccia e non legato alla questione lavorativa e basta. In questo caso Gabriele per l'appunto si riferisce al vantaggio che avrebbero entrambi nel trasferirsi in Costa Azzurra proprio per approfondire ancora di più la loro conoscenza. Essendo sfumati in un certo modo le cose fra noi ed essendoci ritrovati entrambi in estrema sintonia ho creato questa ipotesi di situazione favorevole ad un eventuale lieto avvenire. Che vorrei poter concretizzare con quanto detto a voce proprio perché mi rendo conto che man mano che passano i giorni anche l'aspetto emotivo sentimentale della questione si evolve sempre di più in positivo. E d'altro canto un uomo come me non può fare a meno di certe cose altrimenti uno passa da 20 sigarette a 40 in un batter d'occhio. Fortunatamente il mio carisma mi permette di buttare la questione sull'ironia ma domani parleremo bene e chiaramente di ciò che vogliamo fare anche se ricorda certe occasioni è meglio non lasciarsene sfuggire di mano perché non si ha la certezza che queste ritornino. Ho inoltre una richiesta da farti cosa che già ti ho accennato ieri al telefono vorrei che tu mi trasmettessi più sicurezza come io cerco di fare con te vorrei che si prendesse in considerazione il discorso per il nostro futuro e la questione del tentativo sai bene che è una battuta che ho fatto al tavolo ma la realtà è ben diversa. Per me il fattore età è il tassello fondamentale della questione ho la certezza che almeno mi stia confrontando con una persona in grado di tenermi testa nei discorsi e nei contesti di vita. In un'altra mail Gabriele scrive Ma nel momento in cui mi affiancherai sempre se mi affiancherai dovrai prima gavettare un po' con me e poi intanto mentre sarai in Francia rinfrescherai il tuo francese economico ho già persino preso contatti con un eventuale insegnante che potrebbe agevolare il tutto. Gloria fa l'insegnante di francese? Ma andiamo avanti. Logicamente però mi trovo a visualizzare la realtà dalla mia prospettiva. Quella di Gabriele che lavora dalla mattina alla sera immerso nelle mie intrigate pratiche che deve condividere un alloggio con persone che cominciano a starmi strette con i soliti problemi familiari che vorrei lasciarmi alle spalle liquidando chi non mi apprezza con un bonifico bancario. Ma soprattutto col Gabriele che vuole realizzarsi nella vita inseguendo un obiettivo. Quello che ti ho detto quel giorno alla barcaccia lo penso sempre e continuamente. Chiodino fisso nel tempo libero e non. Credimi che quando la mente comincia ad immaginare penso come sarebbe tutto più semplice se ci fosse un contesto più idoneo per entrambi, più semplice per tutti. Senza violare il limite delle altre generazioni che non potrebbero comprendere e senza impegni e responsabilità superflue. Penso che a volte vorrei cambiare approccio, essere più spontaneo, forse mi basterebbe viverti un po' di più e magari senza discorsi che si arrampicano su vissuti o conoscenti dei tuoi 30, 40, 50 anni fa. In cui purtroppo mi perdo e lo sai bene, seppur per eleganza mantenga sempre l'attenzione e cerchi di preservarla per te. Altra mail, stai tranquilla riguardo i tuoi, per ora secondo me non conviene scompensarli. Quando dovremo andare via per il preliminare allora faremo un discorso insieme ma non ti preoccupare, non ti lascio affrontare nulla da sola. Così almeno saranno più tranquilli nel sapere che non vai all'avventura ma che ti prendi solide certezze insieme a me. Inoltre gli spiegheremo che torneremo qua ogni sabato e domenica, vedrai che col tempo ci faranno l'abitudine. Non voglio che tu ti senta in difficoltà o che tu abbia paura della loro reazione. Vai a lavorare e a vivere la tua vita fuori da Castellamonte, non commetti alcun reato. Ci sono io, non preoccuparti. È a questo punto che scatta la trappola dei soldi. Gabriele spiega che per fare la vita che si sono immaginati e che tuttora sognano è necessario avere qualche soldino in più. Chiede dunque a Gloria di investire tutti i suoi soldi nella sua attività, nella business group. Se ricordate Gloria ha dei bei soldini in banca. Sono tutti risparmi che ha accumulato negli anni e Gloria perché ha risparmiato per una vita? Beh ha risparmiato una vita in attesa proprio di questo momento. Ora la sua vita finalmente può prendere una svolta definitiva, può essere felice e realizzata. Gloria dunque chiama il consulente bancario della famiglia Rosbock e gli chiede di disinvestire tutti i suoi soldi perché gli vuole ritirare in contanti. Però Gloria prima di andare a ritirare in banca quei soldi in effetti ha un po' di dubbi, non è così sicura della situazione. E Gabriele percependo questa sua insicurezza si rifà vivo con Efisia, la donna che aveva scaricato quando la banca le aveva negato il finanziamento da 50.000 euro. Gabriele quindi contatta questa donna e le dice di aver bisogno di un favore. Efisia quanto dice crede si tratti di un semplice scherzo telefonico inventato da Gabriele per farsi quattro risate. Quindi chiama Gloria fingendosi la direttrice dell'agenzia San Paolo di San Giorgio e le assicura che i suoi soldi una volta consegnati a Gabriele sarebbero andati nella filiale di questa banca per poi essere investiti nella business group. Il 24 ottobre del 2014 Gloria si convince definitivamente e va a ritirare questi benedetti soldi. Quindi va presso la sua banca, ritira i soldi, li mette dentro una valigetta ed esce tranquillamente. Gabriele in effetti accompagna Gloria in banca ma evita di entrare chiaramente per non farsi vedere, per non rendersi riconoscibile. Quando quindi Gloria esce dalla banca e gli consegna la valigetta lui la ringrazia, torna a casa, le manda un messaggio di poche parole, ossia sta procedendo tutto secondo i piani, ti aggiorno, baci, G e poi scompare. Chiude tutti i suoi account social, smette di iscrivere a Gloria e quest'ultima lo cerita sia tramite cellulare sia via mail non ricevendo risposta. Tanto Gloria si lamenta con le sue amiche di sempre, Anna e Roberta. Il problema è che Gloria si lamenta del fatto che Gabriele sia sparito e non si faccia più vivo. E' più preoccupata e dispiaciuta per quello. I soldi per lei non sono una priorità al momento. Infatti Gloria dice alle sue amiche che le manca terribilmente parlare con Gabriele. Le mancano i suoi messaggi della buonanotte, le mancano le sue chiamate, le mancano le sue mail. Gloria è confusa, è frastornata, è anche dispiaciuta e tremendamente in imbarazzo. Fatica a parlare di quella storia anche con le amiche più care. Infatti Gloria dopo un po' di tempo confida a Roberta di avere in effetti dato dei soldi a Gabriele. Ma le dice una bugia, ossia le dice che gli ha dato 20.000 euro e non tutti i suoi risparmi. Poco dopo ecco che appare il cartello vendesi sulla casa del ragazzo. Questo fatto è a dir poco singolare. Siamo in un paese di 10.000 abitanti e tutti conoscono Gabriele. Ma soprattutto Gabriele non vive da solo, vive con sua madre e con suo fratello. E sono spariti tutti quanti. A questo punto nasce la domanda. Dove sono? Dove stanno vivendo? Sono passate ormai due settimane dalla scomparsa di Gabriele. Ed è a questo punto che Gloria inizia a farsi due domande, inizia a preoccuparsi un po'. Cosa ha fatto esattamente Gabriele con i suoi soldi? La cosa che più la preoccupa è che Gabriele possa aver fatto qualcosa di illegale. Il punto su cui vorrei tornare a porre l'attenzione è la vergogna che prova Gloria. Questo, ahimè, le impedisce di prendere immediatamente dei provvedimenti. Gloria si vergogna sia per i sentimenti che nutre verso Gabriele, ma soprattutto perché si sente davvero una stupida ad avergli creduto e avergli dato in mano tutti i suoi risparmi. Arriva peraltro un momento in cui Gloria deve raccontare questa situazione a suoi genitori, lo deve fare per forza. E ahimè, i suoi genitori non solo le dicono sei proprio una scema, ma si arrabbiano anche con lei. Gloria è mortificata e a questo punto si vergogna ancora di più. Anche perché in realtà non è così arrabbiata con Gabriele per i soldi, bensì perché è sparito di colpo e non riesce più a sentirlo. Arriviamo a questo punto al Natale del 2014. Sono passati due mesi e il silenzio di Gabriele inizia a farsi un po' troppo lungo. Intanto che cosa fa Gabriele? Ebbene Gabriele si va a nascondere da un suo amico, Avigone. Poi si stabilisce con tutta la sua famiglia a Cassino Torinese, comprando peraltro in contanti una casa. Nascono a questo punto delle domande non indifferenti. Come possono aver comprato una casa nuova in contanti se a stento arrivano a fine mese? La madre di Gabriele quando si è vista piovere questa somma di denaro sulla testa non si è fatta alcuna domanda? Sa per caso qualcosa dei soldi di Gloria? Arriviamo all'estate del 2015, sono passati altri sei mesi quando Gloria finalmente si rivolge ad un avvocato, ossia Stefano Caniglia. L'avvocato ricorda Gloria come una donna molto posata, minuta, riservata, dall'aria molto per bene che gli ha raccontato la storia di Gabriele. Gloria l'avvocato racconta tutto. Gabriele era un suo ex alunno, lo conosce fin da quando è piccolo e le ha sottratto mediante una truffa tutti i suoi risparmi. Dopo qualche giorno Gloria si dirige nuovamente dal suo avvocato per stendere la querela che viene depositata il 29 settembre del 2015. Dopo la querela Gloria chiede ugualmente al suo avvocato di provare a contattare Gabriele per vedere se questo contatto avrebbe portato anche solo a una restituzione parziale dei suoi soldi. Gloria in pratica vorrebbe evitare di finire in tribunale. Il punto è che come già vi ho detto Gloria non ha idea di dove viva Gabriele al momento. Non sapendo esattamente quindi dove scrivere, a chi scrivere, Gloria e l'avvocato attendono di avere indicazioni precise su dove effettivamente Gabriele risieda. Il 2 dicembre del 2015 l'avvocato Caniglia ottiene una risposta dal comune di Gassino. Gabriele De Filippi è residente proprio in quel comune. Così l'avvocato manda una lettera che viene ricevuta proprio dalla madre di Gabriele. Dopo questa lettera a questo punto è Caterina che si mette in contatto con Gloria che, beata donna, prima di arrivare effettivamente alla querela tenta di riallacciare i rapporti con Gabriele. Caterina però dice a Gloria che non ha idea di dove sia Gabriele e si sta nascondendo perché è anche lui una vittima. Deve mantenere un profilo basso perché il suo capo l'ha picchiato e gli ha portato via tutti i soldi. Questa volta però non c'è istinto di protezione che tenga. Gloria, alle parole di Caterina, non ci crede neanche un po'. E in effetti emergerà dalle indagini attraverso i tabulati telefonici che Caterina e Gabriele si sentono molto spesso, almeno una volta al giorno. Gloria si rimette in contatto col suo avvocato perché a questo punto non sa cosa fare. Caterina ora ha le antennine ben ben alzate e cerca di proteggere in tutti i modi suo figlio. Quindi le scrive spesso, le dice che si sarebbe sistemato tutto, le chiede di non mettere in mezzo avvocati. L'avvocato di Gloria però le dice che non va assolutamente bene che si parlino tra di loro. Assolutamente no. Devono utilizzare un difensore e mettersi in contatto con lui. Ormai si parla tra avvocati, sono finiti i giochi. Arriviamo al 13 gennaio del 2016. Quella mattina Gloria esce di casa per andare a fare supplenza. A lezione dalle 9 alle 13. Appena finite le lezioni, verso le 13 e 15, Gloria chiama sua madre, avvisandola del fatto che sarebbe arrivata 15 minuti più tardi. Quindi più o meno per le 13 e 30. Gloria quindi per le 13 e 30 torna a casa, pranza, e poi per le 15 esce di nuovo e saluta i suoi genitori, adducendo una riunione a scuola che le avrebbe trattenuta per circa mezz'ora. Gloria promette che sarebbe stata via solo mezz'oretta, non un minuto in più. Tanto che evita di portarsi dietro i suoi effetti personali. E invece in me Gloria scompare. A casa non ci torna più. I suoi genitori non si allarmano immediatamente perché sanno che Gloria spesso a scuola ha delle riunioni che la tengono impegnata anche fino alle 18 e 30. Ma quando le lancette dell'orologio a pendolo in sala segnano le 19, è impossibile non preoccuparsi. Dove diavolo è Gloria? Verso le 19 e 15 squilla il telefono a casa Rosbock e a chiamare Roberta, una delle due grandi amiche di Gloria. A rispondere a quella chiamata chiaramente non è Gloria, ma sua madre, Marisa. Marisa dice a Roberta che sua figlia non è ancora tornata a casa. Di conseguenza sta iniziando a preoccuparsi sul serio a questo punto. Anche Roberta si allarma immediatamente. Trova strano che Gloria non sia tornata a casa. Quindi prende la macchina e fa il giro di tutte le scuole per vedere se per caso ci sono le luci accese ancora in qualche aula. Insomma, Gloria magari è davvero ad una riunione. Roberta quindi fa il giro delle scuole, ma nota che sono tutte chiuse. Quindi va immediatamente a casa di Gloria e avvisa i suoi genitori che loro figlia non può essere a scuola, perché le scuole sono tutte chiuse. A questo punto la zia di Gloria si reca a Rivarolo, dai carabinieri per effettuare la denuncia di scomparsa. Esce dalla caserma, va a casa di Gloria e dentro poco giungono anche i carabinieri. Le forze dell'ordine controllano se in casa è tutto a posto, se è tutto ok. E stanno lì quasi tutta la notte giustamente per fare più domande possibili alla famiglia di Gloria. La famiglia e i parenti indicano da subito come anomalo l'allontanamento di Gloria. Come vi ho detto è una donna attaccata alla sua routine. Non si è mai allontanata da casa spontaneamente, perché mai avrebbe dovuto farlo a 50 anni. La famiglia, la scuola, ma anche l'intero paese, rifiuta categoricamente l'allontanamento volontario. Tutti dicono la stessa cosa, Gloria non può essersene andata volontariamente. No, non è possibile. Insomma, Gloria non se ne sarebbe mai andata senza salutare nessuno, così, di punto in bianco. Peraltro senza neanche una borsa con dentro i suoi effetti personali. Inizialmente però gli inquirenti credono di avere a che fare con un ipotetico caso di suicidio. Ovviamente si sbagliano di grosso. È così che partono le ricerche coordinate dalla procura di Ivrea. In tutto il perimetro di Castellamonte partecipano i carabinieri, i vigili del fuoco, dei volontari e del personale del 118. Vengono utilizzati cani molecolari ed elicotteri, ma purtroppo di Gloria non c'è traccia. Passa più di un mese, fino a quando non si fanno avanti parecchio medium e sensitivi che ripetono sempre la stessa cosa. Gloria nell'acqua. A questo punto le ricerche si estendono nei pozzi della zona. Parallelamente alle ricerche chiaramente partono anche le indagini dei carabinieri, che a questo punto hanno già ampiamente sentito tutti gli affetti di Gloria. In tutti questi racconti ritorna sempre un ragazzo, un certo Gabriele De Filippi. Più precisamente la madre di Gloria racconta che Gabriele frequentava la loro abitazione. Lo descrive proprio come un amico di famiglia. E in effetti la figura di Gabriele desto a parecchio interesse negli inquirenti. Perché studiando la vita di Gloria è evidente che lui sia l'unica persona, tra virgolette, fuori posto. Gli inquirenti a questo punto pensano che tra i due non ci sia un mero rapporto tra ex alunno e insegnante. Bensì, pensano che ci sia qualcosa di più. Gabriele De Filippi viene sentito nell'immediatezza dal comandante della stazione di Castellammonte. E indica come ipotesi quella di un allontanamento volontario per raggiungere la Francia dove Gloria aveva intenzione di cambiare vita. A questo punto una sezione dei carabinieri studia tutte le celle telefoniche presenti a Castellammonte. Cercando chiaramente delle telefonate che possano essere ricollegate al caso di Gloria. Gli inquirenti quindi partono a studiare i tabulate di Gloria Rosbock e i tabulate di Gabriele De Filippi. Verificando con quali persone ha avuto più contatti quest'ultimo. Le persone protagoniste di questo caso quindi vengono scremate proprio grazie al numero di contatti e quindi di relazioni che si trovano sui tabulati telefonici di Gabriele. E' così che gli inquirenti si rendono conto che Gabriele De Filippi ha davvero tanti contatti con un certo Roberto Obert. Gli inquirenti dunque acquisiscono anche i tabulati telefonici di tutte le utenze intestate a Roberto Obert. Facendo questo controllo i carabinieri si rendono conto che ci sono due utenze intestate alla stessa persona ossia Roberto Obert che si chiamano a vicenda. In pratica Roberto Obert chiama Roberto Obert da due telefoni diversi il giorno della scomparsa di Gloria. Questa per gli investigatori è una svolta perché inevitabilmente sorge una domanda. Chi è Roberto Obert? Cosa c'entra con la scomparsa di Gloria ma soprattutto come può chiamarsi da solo? Ebbene Roberto vive a Forno Canavese, lavora nel settore amministrativo in un'azienda di prodotti alimentari, però è in mobilità. Ha 54 anni ed è in attesa di andare in pensione. Roberto è un uomo molto riservato e schivo, ha una personalità molto remissiva ed è l'ultimo compagno, l'ultima conquista di Gabriele De Filippi. Si conoscono perché il compagno di Roberto fa l'infermiere nello stesso ospedale in cui lavora la madre di Gabriele, Caterina. E in effetti Gabriele sconvolge letteralmente Roberto, l'uomo è molto affascinato da lui e dal suo animo tormentato. Insomma perde letteralmente la testa per questo ragazzo. La domanda a questo punto è Roberto è vittima dei propri vizi e Gabriele è uno dei suoi vizi che gli permette di coltivare altri vizi oppure è semplicemente una vittima di Gabriele? La domanda che dovremmo porci è proprio questa perché sì, Roberto Obert ha dei vizi. In primis non è fedele al suo compagno, ma è anche vero che in qualche modo sfrutta Gabriele per il suo tornaconto personale. Infatti sono soliti frequentare un locale gay a Milano, dove Roberto porta sempre con sé Gabriele perché lui non è molto affascinante. Gabriele però lo è. Quindi proprio grazie a lui riesce ad adescare degli uomini per fare cose a letto tutti insieme consumando anche della Coca-Cola. A questo punto torniamo a Roberto Obert che chiama a sé stesso. Che senso hanno quelle chiamate? Perché esistono? Com'è possibile che Roberto Obert si sia chiamato da solo? Questa scoperta accende irrimediabilmente i riflettori sull'amante di Gabriele. Gli inquirenti a questo punto quindi decidono di osservare le telecamere di videosorveglianza di Castellammonte. Forse quelle telecamere hanno ripreso qualcosa. E anche un'automobile sospetta potrebbe bastare. Gli inquirenti hanno bisogno di piste perché hanno in mano diversi elementi che però non riescono a collegare in modo concreto. È così che gli inquirenti notano che il 13 gennaio passano a distanza ravvicinata, in orario compatibile con la scomparsa di Gloria, una Twingo bianca e una Mini arancione. Anche queste due automobili sono intestate a Roberto Obert. Il 19 febbraio Roberto Obert viene convocato in caserma. Gli inquirenti sono speranzosi di ottenere qualche indizio in più sul caso. Roberto inizialmente nega. Fino a quando gli inquirenti girano il monitor del computer, c'è non di vedere le riprese delle telecamere di videosorveglianza. Roberto sta lì, osserva impassibile, non capisce. Fino a quando gli chiedono. Scusami Roberto, cosa ci fanno entrambe le tue macchine nella stessa rotonda, nello stesso orario? Sappiamo che quella Mini e quella Twingo sono intestate a te. Roberto Obert a questo punto confessa, dice tutto quanto alle autorità. È disposto a collaborare, quindi a portarne nel luogo in cui hanno occultato il cadavere di Gloria. Lui sottolinea di non aver fatto assolutamente niente a parte questo. Insomma, l'unico che ha agito materialmente, uccidendo Gloria, è Gabriele. È così che i carabinieri e la procura si dirigono in una zona di campagna, tra Pertusio e Rivara, dove è presente una discarica in disuso. Nel centro della discarica ci sono diversi pozzi neri e Roberto Obert ne indica immediatamente uno in particolare. Sono passate cinque settimane da quando Gloria è scomparsa ed è proprio in quel pozzo nero che viene ritrovata quella povera donna. È lì in un angolo che galleggia. Roberto è lì presente e ciò che lascia perplessi le persone accanto a lui è la sua freddezza. Sembra che quel ritrovamento, quella tragedia, non lo tocchi così tanto. La mamma di Gloria sostiene che se Roberto non avesse parlato, Gloria non sarebbe mai stata ritrovata perché le ricerche non si sarebbero mai spinte fino a quella discarica. Intanto Gabriele viene portato nella caserma di Ibrea in via precauzionale. Rimane nella sala d'attesa e appena vede entrare un agente con Roberto Obert inizia a fare la sua scenata. Si alza ed esclama, voi non potete farmi una cosa del genere, come usate? Io voglio essere libero, devo andarmene, io non centro niente con questa storia, perché sono qui? Al chiede un carabiniere si gira, lo guarda e gli dice Ma non hai ancora capito? Perché non la smetti di recitare questa parte? Dai su, abbiamo anche trovato il corpo. Non hai nemmeno un po' di vergogna per quello che hai fatto? Gabriele a questo punto capisce che gli inquirenti hanno trovato il corpo di Gloria, quindi di conseguenza si siede e finalmente tace. Quella sera oltre a Roberto Obert e a Gabriele De Filippi viene anche fermata Caterina Battista, la madre di Gabriele. Caterina viene fermata perché nella giornata del 13 gennaio pare si sia allontanata dall'ospedale in un orario compatibile con quello della scomparsa di Gloria. Inoltre il suo cellulare aggancia la cella di Montalenghe, una zona che può portare alla discarica in cui è stata ritrovata Gloria. Il punto è che quella cella non aggancia un traffico voce, bensì un traffico dati, che è diverso. Il traffico dati equivale al traffico che si registra nel momento in cui il cellulare è collegato a internet e magari sta effettuando un download, sta aggiornando un'applicazione. Quindi questa informazione non è che sia poi così tanto attendibile. Intanto il 24 febbraio Castellamonte si ferma, è il giorno dei funerali di Gloria Rosbock. Per Castellamonte non gira nessun automobilista e a quel funerale partecipa tutto il paese. Ci sono gli alunni di Gloria, i rappresentanti di diverse scuole in cui Gloria ha insegnato. Insomma è chiaro, a quella donna volevano tutti un gran bene. Nel frattempo le indagini proseguono e gli inquirenti a poco a poco riescono a mettere insieme i pezzi di un puzzle davvero molto complicato. Costruito con grande abilità, questo è certo, da Gabriele De Filippi. E ora vi racconterò cosa si è inventato questo ragazzo. Due giorni prima dell'omicidio di Gloria o della sua scomparsa, Gabriele ha già pianificato tutto e ha intenzione di togliere di mezzo Gloria per quei soldi. Quei soldi sono proprio un bel problema, Gloria l'ha denunciato e per di più ormai quei soldi Gabriele neanche li ha più. Questa situazione in effetti è sospetta perché nel 2015 Gabriele sembra ricospondato. Porta un sacco di ragazze a cena e poi va al casino dove è in grado di spendere anche 15.000 euro a sera. La domanda a questo punto è, ma la casa Cassino quindi non l'ha comprata Gabriele con i soldi che ha preso a Gloria? Insomma, l'ha pagata in contanti, pare strano. In realtà Caterina, la mamma di Gabriele, sostiene che a comprare quella casa è stato il suo nuovo fidanzato, che in effetti aveva parecchie disponibilità economiche. Il perché quella casa sia stata pagata in contanti però in questo caso rimane un mistero. Non è quindi esattamente chiaro cosa abbia fatto Gabriele con i soldi di Gloria. Una sicurezza però ce li abbiamo. Le ha spesi, tutti. E credo che basti e avanzi questa come spiegazione. Comunque, come vi dicevo, la denuncia che ha asporto Gloria lo spaventa. È preoccupato perché, come già vi ho detto, quei soldi non ce li ha più. Dunque Gabriele decide di raccontare a Roberto Obert la situazione. Ma la racconta un po' a modo suo, chiaramente. Vi dice quindi che c'è una tipa di nome Gloria che gli sta rompendo l'anima. Addirittura asporto denuncia contro di lui senza un motivo. Quindi c'è bisogno di fare qualcosa. Gabriele chiede a Roberto di spaventarla. Gabriele a questo punto convince Roberto ad acquistare ulteriori due schede telefoniche a suo nome. Ovviamente Gabriele non gli dice che servono per commettere un delitto. Rimane sul vago. E comunque Roberto Obert è parecchio affascinato da Gabriele. Quindi non si fa neanche troppe domande. Compra queste due schede e una la dà a Gabriele. Dopodiché il giorno prima della scomparsa di Gloria Gabriele fa un incidente e va fuori strada. Ma non lo fa casualmente. Quella non è sfortuna. Gabriele questo incidente lo fa per un motivo ben preciso. Insomma quell'incidente sembra autoprodotto. Per di più il carrozziere ammette che non è che ci fosse tutta questa urgenza di riparare l'auto. Erano solo dei danni estetici. In ogni caso in questo momento Gabriele chiama Roberto Obert e un autosoccorso fa portare via la sua macchina e chiede a Roberto se gli può prestare una delle sue automobili. In quanto ha appena fatto un incidente e non ha la macchina. Quindi Gabriele ha in effetti provato a far ricadere tutta la colpa su Roberto Obert. Il ragazzo infatti pensa non ha la mia macchina perché è dal meccanico. Nel mio cellulare in questo momento è inserita una sim che non conosce nessuno tranne Roberto ed è pure intestata a lui. Di conseguenza non c'è alcuna possibilità che possano arrivare a me. Gabriele quindi sfrutta il ruolo che poi avrà nella vicenda Roberto Obert. Il giorno 13 gennaio Caterina accompagna Gabriele a Rivarolo. Ecco perché si allontana dall'ospedale. Lì vicino in effetti abita Roberto Obert. È così che Gabriele recupera la mini di Roberto Obert. Con questa macchina si dirige a Castellamonte fuori dalla scuola per attendere la professoressa Gloria Rosbach. Quindi i due si incontrano e in effetti Gloria è entusiasta di vederlo. D'altro canto lui le va incontro, le dice che gli dispiace tantissimo. Ha fatto un grandissimo casino ma può restituirle i soldi. È così che le dà un ulteriore appuntamento dopo pranzo. In cui sarà presente anche l'avvocato di Gabriele che in realtà è Roberto Obert. Gloria è entusiasta e crede alla storia di Gabriele. Quindi torna a casa, pranza come tutti i giorni e poi esce di nuovo per le 15 del pomeriggio. Vuole incontrare Gabriele e spera di riottenere almeno una parte dei suoi soldi. Gabriele a questo punto inserisce la sim intestata a Roberto nel suo cellulare e lo chiama per chiedergli di raggiungerlo a Castellamonte. E questa è la famosa chiamata che Roberto avrebbe fatto a se stesso. Quindi Roberto Obert che chiama Roberto Obert. In realtà era Gabriele che chiamava Roberto Obert quindi. Roberto quindi prende la sua twingo e raggiunge Gabriele. Mentre stanno andando a posteggiare la mini lì vicino, passano davanti alle telecamere della rotonda che sta a pochi metri dalla casa di Gloria. Gloria dunque va a quel parcheggio perché c'è Gabriele e si fida. Sale dunque sul sedile davanti, sul lato passeggero. Alla guida c'è Roberto Obert, mentre dietro il suo sedile è presente Gabriele. Roberto e Gabriele dicono a Gloria che si stanno dirigendo presso lo studio di Roberto dove sono conservati tutti i suoi soldi. Come già sappiamo però Roberto ahimè non è un avvocato e guida fino a quella discarica. Gloria giustamente è confusa e inizia a fare delle domande e Gabriele prende un filo per i panni e da dietro la strangola. Intanto Roberto Obert è seruto lì di fianco e non fa nulla. La domanda a questo punto nasce spontanea. Perché Roberto Obert ha partecipato a questo piano? Perché non ha detto né fatto nulla quando ha visto Gabriele far del malagloria? Ebbene perché come già vi ho detto Roberto ha un carattere incredibilmente passivo. Ha una personalità asservente. Ecco perché Gabriele ha scelto proprio lui. Gabriele però si è scordato di fare i conti con la realtà perché se lui con un segreto del genere riesce a vivere Roberto no, non ci riesce. Che a questo punto Gabriele è messo alle strette e dice di non aver fatto nulla. È stato Roberto in realtà a uccidere Gloria. Roberto come è ovvio che sia ammette le sue colpe ma sottolinea di non aver mai visto prima di quel giorno Gloria Rosbock. Non sapeva assolutamente chi fosse. Gabriele invece racconta agli inquirenti che ha avuto modo di parlare con Roberto a lungo di Gloria. Quindi in realtà sapeva benissimo chi fosse. Ma soprattutto sottolinea che non guidava Roberto Obert per raggiungere la discarica. Alla guida c'era lui. Roberto Obert era dietro a Gloria. Quindi in realtà è stato Roberto Obert ad uccidere Gloria. Gabriele a questo punto dice che ha provato a intervenire ma proprio non è riuscito a fermare Roberto perché era troppo forte. Gli inquirenti a questo punto si guardano in faccia e capiscono che non ha senso interrogarli separatamente. In questo caso devono avere un confronto e lo devono avere davanti a loro. Vogliono vedere come si accusano, cosa dicono, che parole usano e come si guardano. A questo punto si vede Gabriele in tutto il suo splendore che accusa Roberto di qualsiasi cosa. Lo accusa di traffico internazionale di sostanze, di usura. Lo accusa anche di aver toccato il suo fratellino Claudio in modo inappropriato. È chiaro che Gabriele abbia una mente più veloce quindi l'avvocato di Roberto lo allena quotidianamente per affrontarlo. Gli dice che ogni singola volta si deve difendere velocemente. Ogni volta che Gabriele attacca deve rispondere repentinamente e deve cercare tutte le volte di far emergere la verità. Perché Roberto, a differenza di Gabriele, non deve mentire. Il suo avvocato spiega che l'ha accusato di qualsiasi cosa per aiutarlo ad allenarsi. Gli ha insegnato come rispondere e come tenere testa ad una personalità come Gabriele. E in effetti quello che si spreca in infinite parole è Gabriele. Roberto deve solo difendersi. Quindi risponde, non è vero, abbia almeno il coraggio di dire la verità. Devi essere in grado di dire cos'è successo realmente. Perché continui a mentire? Ad un certo punto Roberto Obert arriva a dire Gabriele, io una persona malvagia come te non l'ho mai vista. Hai messo in mezzo chiunque. Te ne rendi conto? Ma perché non devi dire la verità almeno una volta? Hai architettato tutto te. E se va bene, mi facevi anche secco dopo. Gabriele riprende e dice, tu devi avere il coraggio di dire la verità. Hai i tuoi agganci e hai fatto quelle cose. Dillo. È qui che a mio parere Roberto va all'attacco. Si sporge proprio verso Gabriele e gli dice, no, qui sei tu che stai mentendo e che architetti tutte queste cose con tutti. Non sono né il primo né l'ultimo. Stai girando su te stesso e neanche te ne accorgi. Sei malvagio dentro te. Sei malvagio. Gabriele quindi riparte all'attacco e dice, hai ucciso una persona e pensavi che io non avessi le palle di raccontare le cose così come stanno. E invece così ho fatto. Gabriele attacca, 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 continua ad attaccare. Mentre Roberto si difende, talvolta prova anche a contraattaccare, ma principalmente si difende. In quanto Gabriele è davvero un fiume in piena e parla davvero molto più veloce di lui. Però si sa, il gioco d'attacco stanca. E Gabriele fa un gravissimo sbaglio durante questo confronto, che ovviamente si svolge in più ore. Gabriele è molto stressato, questo è certo, ma soprattutto è così tanto in ansia che durante la pausa pranzo, che si svolge nel primo pomeriggio, non mangia nulla. Nelle prime ore del pomeriggio il confronto continua. E a questo punto è Gabriele che si frega con le sue stesse parole. L'agente infatti gli chiede, senta, lei ha fatto l'incidente, giusto? Ma lei quando ha chiamato al call center per l'automobile, cosa ha detto? Gabriele risponde, io al call center ho detto che ho avuto, che sono uscito di strada volontariamente. Così. E a questo punto che la domanda dell'agente arriva spontanea, volontariamente. Gabriele ribatte, ma no, ma dai, hai capito quello che voglio dire. Gabriele De Filippi dopo aver attaccato per tutto il tempo subisce un contropiede. Da quel volontariamente si capisce che l'incidente che ha fatto con la sua macchina è totalmente fittizio. Un incidente volto a non utilizzare la sua macchina, quando si sarebbe dovuto compiere il diritto 48 ore dopo. Roberto Obert ha sempre tenuto il punto, è stato netto nel dire come sono andate le cose. Si è espressi in parole molto semplici e non ha mai cambiato una virgola della sua dichiarazione. E in effetti le dichiarazioni di Roberto vengono effettivamente confermate dagli esiti delle indagini. È a questo punto che entrambi vengono rimandati a giudizio ed entrambi scelgono il rito abbreviato. Giorgio Piazzese, l'avvocato di Gabriele, semplicemente un giorno va da lui e gli dice Gabriele, ascolta, scrivimi la tua storia. Gabriele quindi inizia a scrivere pagine, pagine, riempie, fogli, protocollo, per poi consegnarli al suo avvocato che, ogni volta, torna da lui mettendogli in evidenza alcune parti in cui la sua storia non è affatto credibile. È così che tra una correzione e l'altra Gabriele arriva a confessare. Il primo luglio Gabriele, in carcere, decide di incontrare gli inquirenti per rilasciare una confessione spontanea. Decide dunque di dire la verità. È lui l'esecutore materiale del delitto di Gloria. L'ha uccisa lui. Nel corso dell'indagine per Italia emerge chiaramente che Gabriele è un narcisista. Quindi non solo vuole essere al centro del mondo, dell'universo, vuole sentirsi chissà chi, ma è anche privo di empatia. Gabriele è incapace emotivamente di partecipare ai sentimenti degli altri. Al termine del processo di primo grado Gabriele viene condannato a 30 anni di reclusione, Mentre per Roberto Robert la pena è a 19 anni, ridotta poi in appello a 18 anni, 9 mesi e 10 giorni. Le sentenze a questo punto sono definitive. Un processo a parte viene anche celebrato per Caterina Battista, la madre di Gabriele. Si è dovuta difendere dalle accuse di concorso in omicidio di Gloria Rosbock e di truffa. Caterina viene assolta. Sono ormai passati 5 anni da quando Gloria non c'è più. Nessuno l'ha dimenticata. Gloria resta nel cuore dei suoi genitori e di tutti gli alunni che hanno avuto modo di incrociarla nel loro percorso scolastico. L'aula insegnanti porta il nome di Gloria. Hanno fatto un'inaugurazione piantando un albero in suo onore, in sua memoria. Durante quella giornata sono presenti tutti gli alunni della scuola. Eppure non vola una mosca. Questa a mio parere è la dimostrazione di quanto fosse davvero amata Gloria Rosbock. Qualcuno l'ha definita come una colomba che non conosceva il male. E in effetti se pensa a Gloria e alla sua storia non può che venirmi in mente un'anima pura e innocente che nella sua vita ha solo fatto del bene al prossimo. Detto questo ragazzi ho finito di parlare in questo video. Spero ovviamente che questo video possa essere stato di vostro interesse. Conoscevate questo caso? Io credo di sì. Quindi sono curiosa. Fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate di questa storia di Gabriele soprattutto. Nel frattempo vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene. O almeno prendetevi cura di voi. Fate ciò che vi fa stare bene. Ciao ragazze. Ciao ragazzi. Ciao ragazze. Ciao. Ciao ragazze. Grazie a tutti.